Già un centinaio di migranti sono stati accolti a Catania e così rientriamo in Italia dopo essere stati soccorsi in mare dalla guardia costiera. Ma al porto ne sono attesi altri 700. Allora su questo sentiamo l'onora Mastromarino. I volontari della protezione civile regionale sono al lavoro da ieri per montare due tendostrutture accanto all'ex hub vaccinale di Catania. La macchina dell'accoglienza si ingrandisce cercando di stare al passo con i numeri sempre crescenti dei migranti in arrivo. Il palazzetto anti-covid convertito in punto di prima accoglienza dallo scorso ottobre è stato sempre operativo e adesso non basta più. Ormai il sbarco qui non è un evento ma è un appuntamento fisso. Da diversi mesi l'impegno della prefettura e tutta la macchina dell'accoglienza in prima linea è ormai collaudata. All'interno ci sono 108 persone, 16 bambini, soccorsi dalla guardia costiera nell'Oionio e arrivati la notte scorsa nel porto Etneo. Subito dopo nave Peluso è ripartita per raggiungere e scortare fino a Catania un peschereccio con altri circa 700 naufraghi a bordo. Il numero, finché non toccheranno terra, è incerto. Per i primi arrivati sono invece in corso le operazioni di identificazione funzionali alla ridistribuzione. Procedure oramai rodate in questo che è solo un punto di passaggio per la primissima accoglienza. Caldo, panini, scarpe, coperte e poi un ulteriore pasto caldo e poi scandiamo la giornata con delle attività ricreative perché l'attesa è importante. Cerchiamo veramente di accompagnarli in questa attesa che cominciamo poco anzi, nell'interesse di tutto, spero sia più breve possibile. Ora una notizia di Cronaca.